Come colpire l'attenzione di una fascia, quella giovanile? In gran parte attratta dall'illegalità, da chi fa i soldi in maniera facile, veloce e soprattutto senza rispettare le regole. Invocare e propinare loro il principio della legalità non basta, bisogna fargli capire che conviene a tutti agire nel rispetto delle regole e delle leggi. Ci ha approvato un ospite autorevole all'Istituto Superiore Righi di Taranto, in particolare le classi quarte e quinte, il procuratore antimafia Francesco Mandoi. Il nostro benessere deriva dalla capacità di mantenere rapporti di solidarietà e di rispetto reciproco con gli altri, e che il rispetto delle regole è la base della convivenza civile di una persona. E la convivenza civile non è qualcosa che serve per gli altri, serve innanzitutto per noi stessi.